Ma come? Cioè, tu eri nel bagno delle femmine per caso? Un'altra persona in cui ho rovinato la carriera facendo questo video Volete aver solo il mafia in uno dei miei video o una canzone insieme? Cioè, ah, il raggio laser che ti ha reso riccio, ok? Ed è quello che sta facendo finire il mondo Vai, mostrami Siamo pronti adesso a vedere i video Gli ho già fatto vedere un trailer di un minuto e mezzo E mi ho detto, no, sto schifo, fammi vedere un video musicale, vero e proprio Esatto, come faccio a reagire a una roba, un video musicale che cambia ogni 3 secondi Lo usa solo lui, vai Bene, tra l'altro Mi dai giustamente il destro, no? Così sto così No, 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 questo è il sinistro Guarda, no, poi queste sono le tue perché sono tutte sporche di cerume Allora, bene, andiamo avanti Cd6 Guarda che se le sleghi magari è più lungo di un centimetro il filo, che ne pensi? Cioè, proprio tutto sulla lunghezza, punti Come state? Intanto vi saluto Che un po' che non facciamo video così con la telecamera ferma Vabbè, oh, io non è che sono bravo a fare YouTube, lo faccio un po' così a cazzo È il mio hobby, non è che cosa pretendi Vai, fammi vedere il primo video Allora, io direi di iniziare con Fire perché è la canzone È la mia canzone preferita L'avevo detto in un video, ti ricordi? Ah, sì, è vero, è la tua preferita E allora ti ho fatto vedere il video È anche il caso che l'ascolti una volta, no? Sì Visto che è la mia preferita Ha fatto ben 750.000 views Quante tue di queste views? No, tutte di Haki e Joy Guarda un video di me da solo che ho fatto un milione di visite E la gente è tutto Ma perché sto video in tendenza che fa cagare? Aspetta che ho incominciato Aspetta Non puoi fare così, devi fare 3, 2, 1 Quindi adesso Ah, chissà quando Bene, adesso stiamo per iniziare 3, 2, 1 Eh, no Quando fai K devi fare play Ah, ok Fai Via Faccio io, va 3, 2, 1 Via Bella, lei legge i manga No, lui è un maschio Invece ha la barba No, prima c'era lei Ah, sì, sì Guarda, è una canzone di Sebastiano Serafini Ah, eccoti, eccoti L'hai scritto tu? Cosa? Eh, beh, ma lo so È la mia canzone preferita Ah, sì Ah, sei a scuola Beh, ma L'hai fatto in classe tua questo, no? A liceo? Eh, sì Esatto Ok Sei miei compagni di classe Sei miei compagni di classe? Ok No, perché li bullizzi? No Ma no, se così anche Cioè, non lo fai solo come Lo fai anche Sto recitando Ah, stai recitando Ok Ma canti in giapponese? Io canto sempre in giapponese Ma come? Non sai neanche questa cosa Ma quindi fai il giapponese bene? Eh, sì Ah Bello, lui mi sa simpatico Sì, sì No Lei mangia la cioccolata, vedi? Ma di che marca è? Meiji Perché ha sponsorizzato già due video miei Ah, sì? Questo no Meiji, se vuoi sponsorizzare anche qualche mio video Mi piace la cioccolata No, ok Vabbè, oddio Se facciamo video musicale Probabilmente ce lo sponsorizza Qua devo fare finta di essere il bullo Cosa che non faccio Non so Ah, ma guarda Ti riesci incredibilmente bene Proprio sei un grande attore Eh, lo sa Ma quindi Cioè, sei di lato anche nelle music video Cioè, non solo dei tuoi video YouTube Ma anche No, in questo Non in tutto Ah, negli altri ti si vede in faccia? Ogni tanto sì Tipo in quello dove cado nella vasca Sì Però cazzo 750.000 visite Scusate, eh Senti, che bravo Ma sei bravissimo Sei bravissimo Tutte le persone che hanno visto il video Perdonatemi Lei mi sta simpaticissima Eh, lei è una mia amica Siamo tanto amici Io c'ho un sacco di amici Ehm Ma è più bello il video degli errori comunque Qua entravo per sbaglio Ma come? Cioè, tu eri nel baglio delle femmine per caso? No Stavi facendo pipì E a caso la truppa è inattata in mare Guarda che questa cosa ce l'è importante Lui che spia lei E guarda che qua ce l'abbiamo dovuta registrare Ma guarda che camminata dietro tu Con Che scene d'azione Madonna Cioè, questo è quello che sogno di farti io tutti i giorni Praticamente Di lanciarti qualcosa Di lanciarti qualcosa in testa e farti cadere Cioè, mi son sentito proprio come se l'hai fatto io Ma hai capito? Guarda che poi non capisci la storia Quindi impegnati Cosa c'è da capire? Lei è bullizzata No, lei mi ha tirato il manga in testa Allora io adesso la vedo strafiga, no? Ah, quindi è body shaming Cioè che lei È bella solo se tu sei rimbambito Bravo, che bei messaggi Allora, la storia era scritta a chi dire Io ho solo seguito le indicazioni Perché sta ballando adesso lui? A caso Ah, ok Beh, è un video un po' scemo eh No Per questo era low budget comunque Non si capiva No Meno male che me l'hai detto perché Se no avrei pensato Beh, però cazzo Guardate che avere il permesso di registrare in una scuola Non è facile In Giappone Ah, bravo Ah, ora la baci? Eh sì Oddio Scena di Rob E ovviamente lei No, che schifo Ah, ok Meno male Cioè Mi stringo la batteria Non capisco perché tu non balli Perché non so ballare Se no ero anch'io lì così Guarda le corse Ma Questa è un'inquadratura ferma come i tuoi video Hai visto la trascena d'azione? Beh, eh C'ha i sottotitoli Anche nei sottotitoli I messaggi subliminali Adesso lei Io mi riprendo Ok E la rivedo cozza E finisce così No, adesso è ancora faica Eh no, adesso però no Cioè io non capisco Se premete qua La potete scaricare Comunque Scaricate Fire Che è la mia canzone preferita E ora l'ho anche sentita Adesso non ti piace più però Vabbè È l'unica cosa ho sentito Quindi tra le tue Rimande la mia preferita Vuoi vedere on the run Oppure gli errori di Fire No, io voglio vedere uno ancora più brutto Cioè Non di questo brutto No, se ne vuoi vedere uno brutto Allora Cioè uno oggettivamente brutto Eh no, uno brutto No, ma quelli tuoi vecchi voglio vedere Non quelli belli Ma questo non è bello Ma no, ma uno Quelli trash in cui tu hai i capelli Tipo super Quello della tua band Ti prego Sì, dai, dai No, no, no Prendiamolo bello C'è qualcosa di peggiore Sì, vai Non vedo l'ora Allora Questo proprio va capito Questo video però Perché è difficile E questo è il mio primo video musicale È costato la bellezza Tipo 10.000 euro Ricordiamo che A Serafini Piace dire quanto spende Per i regali Per i video musicali Togli questo No, no Lascialo Vabbè No, vabbè Perché insomma Ci sta Io ho fatto girare l'economia Ok Allora vabbè Stiamo per partire Beh, questo è ancora più trash Qual è Fallen Di Fallen Ancora peggio Però sì 3, 2, 1 Via Aspetta Non si fa così Ok Povero Tu non pensi Però questo lo possiamo vedere In double speed Perché ti edito i video Non succede niente In questo video Forse è meglio E cosa me lo fa vedere a fare Eh vabbè Però Fammi vedere uno trash No ma è trash Forte Però è lungo Siamo pronti Adesso vediamo il video di Fallen Che è il mio primo video musicale Sei pronto? Guarda che questo esperimento Ti cambierà la vita Ancora peggio di Fire Perché eri meno esperto E cantavo male Cantavo molto pezzo Di adesso Ma non è tanto bene Ok Siamo pronti? 3, 2, 1 Via Oddio Guarda che migliora Sei sicuro lo vuoi sentire con le cuffie? Questa è una Ma chi sei? Sembri Quello di Final Fantasy Come si chiama? Final Fantasy 7 Cloud Cloud It was no reason Questo non è rallentato È una città naturale Sei tu quando cammini Sì Ma questo è lo sponsor Le scarpe No no Non c'erano Oddio Ma lo smetti? Quanta pazienza È un meteorite di Plutone Che arriva Meteorite di Plutone Eh vabbè Ma questo è molto più Ai budget di Fire Fire era il mio video Con meno soldi in assoluto Ah ma qui hai speso 10.000 euro effettivamente Ti avevi detto all'inizio No perché Se no devo pagare tasse Quindi È vero che dovevate le tasse No basta Allora Questa si chiama Fallen Cioè più che Fallen È proprio Stai cadendo proprio Le fisicamente Tra l'altro Questa qua è una canzone Non mia Infatti è un po' più schifo Del solito Però ha scritto il testo E però Chi ha fatto Chi ha fatto la canzone Ha detto che proprio Questo video fa proprio cagare Proprio noiosissimo Secondo me è artistico Poi non sapete La fatica che ho fatto a cadere Perché Mica è computer grafica questa Ma chi è questo? Perché c'è un signore Così che è a casa È il chitarrista Dei Shazuna Che era una band famosa In Giappone E adesso si è riuscita a fare Stato per lui Quindi direi che Però ha begli gli occhiali Sì gli occhiali sì Eeeh va Però scusa Non so perché l'hanno registrato Lui in slow motion Scusa Ah ma era la registra Ma hai detto che era quella naturale Sì vabbè Ah scendi tipo Cos'è? Scendi tipo Gesù Cristo Alzi altri personaggi L'avamo inventi In questo video Vabbè ma a sto punto Mettevi anche me Scusa Eh se ti conoscevo sì Ma dai non volete Verso il mafia In uno dei miei video O una canzone insieme Ma se non la vuoi fare Non la facciamo Bella lei Lei è un uomo È il violinista dei Chuka Valanga Sì di loro Che era un gruppo famoso No è Un'altra persona Che ho rovinato la carriera Facendo questo video Tutte le persone in questo video Sono morti in casa Io tipo Cristo Ma perché Compari come Gesù Cristo Dietro Come la Madonna Anzi Cioè Beh questo però è interessante E sei tu nudo a un certo punto No Hai un altro ancora Un altro che ha rovinato la carriera No ma è come il tipo di The Maze Eh mi hanno copiato Sì Ah mi hanno copiato Ok No come si chiamava quel film Vabbè comunque Non lo so Ma questo è mio amico che sa Era mio amico Tutte le persone erano mie amiche Prima di questo video Tre ore di trucco Per un minuto di appearance Tu versione Madonna Rimani lì Eh sì Mentre le persone suonano Perché c'è una Cos'è Quello era il pesce di Questo è il pesce di The Shape of War È proprio lei Hanno copiato anche a te quello Eh mi hanno copiato L'agio E non è finita Stai continuando a cadere Tu in tutto ciò Era profondo questo Questo baratro Ma lei spara anche i fulmini Potrà toccare un rallentatore Quindi Però a te erano due metri Ah no ok È la slow motion Ok Beh ma anche i fulmini Ah finalmente sei sceso No è per un altro Eh ho questi capelli Sembrano tutti uguali Guarda ragazzi Questa una scena importante Dall'occhio Scapi tu Sport Cambio d'abito Cambio d'abito In aria Guarda Eh Ma cos'è questo Ma cos'è Ma cos'è Era un po' Stratto questo video Ma basta con questo concept Stratto Che c'hai Non si esplisce una sega Perché è esploso tutto ma chi sono questi non è finito è tranquillo adesso c'è la rivelazione finale ti sei infiammato perché giustamente con tutta questa caduta poi la gravità e la sfera terrestre però anche i fulmini sei morto finalmente questo non è molto a ok sei morto e si è diventato gesù cristo ho capito che sono morto nella caduta di vecchiaia 10 anni dopo 10 anni dopo sei diventato santo piaciuto questo voto posso fartene vedere ancora uno visto che ormai abbiamo preso un po la mano non so abbastanza pazienza ma si dai si ok vuoi vedere higher oppure higher l'ho già visto higher higher oppure questo come si vedono negli occhi però questo non succede molto ecco uno un po high budget dai ti faccio vedere oppure ne vuoi uno ancora più trash vai trash siete pronti ci tengo a sottolineare che sera fin spenderà pure 10.000 euro per i suoi music video ma a me non sta dando niente per questa azione di sacrificio che sto facendo ma basta ma sei proprio un malvado ma basta tu per farmi cadere gli auricolari è un bullo allora siamo pronti a vedere però forse sto pensando se ce ne sono di più non ne vuoi vedere uno dove si vedono i due occhi ma io ti ho già visti gli occhi e non solo e non solo ma se volete scoprire cosa ho visto guardate il video in cui vi diciamo chi è attivo e chi è passivo andiamo avanti vediamo adesso il video siamo pronti 3 2 1 via ma questa la conosco quella che metti alla alla fine di ogni video però canto bene dai autotune power ma cosa dici commenta anche i vestiti beh la location è bella è quello che l'hai fatto in trento sponsorizzato dal trento beh sei sempre un po gesucristo però tu eh cioè c'è sempre questa luce questo alone divino la gente dice ma perché fai youtuber se non ti fai vedere gli occhi ma sono anni che fai video così aspetta c'è un meteorito ma perché i meteoriti sono una cosa che è ricorrente qual è il messaggio dietro aspetta gli alieni ho capito sto capito un raggio laser ma che cazzo sono scene un po a caso ah ok meno male che lo dici tu un drone avete preso un drone fa vai drone libero liberati se ne a caso proprio ma dove siete qua un po a caso siamo un po ovunque da nessuna parte ma è il giappone o l'italia l'italia però sono venuti i miei amici dal giappone quando ne avevo ancora alcuni e queste sono le statue di mio zio zio bruno eh bruno lucchi è mio esprestato è mio zio se volete comprare costeranno sui 50 mila euro quindi metteteli da parte un po' di soldi costano addirittura più dei budget dei tuoi video questa è la mia migliore amica prima del video fa la cosplayer faceva adesso no adesso no adesso che gli ha roberto la carriera non fa più niente sei suicidato ogni dopo tu gesù cristo e gli alieni che attaccano la terra ma perché ma così ma perché questa qua sarebbe stato un po' la terza parte di un video no ah ok nella prima chiamate gli alieni nella seconda ricevono la chiamata nella terza attaccano vai a casa vai drone vai drone vai cosa ne dici? ah ora sei il riccio c'è ah è il raggio laser che ti ha reso il riccio ok guarda 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 scene d'azione adesso cosa sta accadendo? stai per affrontare gli alieni con una corsa campestre? ma eri tu quello? si voglio dire che ma lo stai facendo così ma ah ecco gesù cristo sei tornato a evocare la madonna come ti sa questo video ti piace? ma è bello è molto confuso no assolutamente io la trama ce l'ho vista eccoti qua eh vieni a me potere divino e guarda facendo la bolla di dragon ball ah la sera di jendikama come si chiama? allora quanti amici che avevo prima di fare il canzante youtube ero avevo un sacco di amici la gente mi chiamava i party ma loro si inchinano al tuo potere adesso hai visto si hai visto un occhio eh? ed è quello che sta facendo finire il mondo il vero motivo perché non si vede i tuoi occhi posso partire a vedere un ultimo? no no è un minuto solo questo però quella è trash io sono arrivato al mio limite della pazienza no ma questo è un minuto e basta però questo merita perché secondo me mi sai dire qualcosa poi devo andare all'ambasciata per esempio a ritelare il mio visto non so cosa sia più importante allora il pezzo del telefilm secondo me merita cos'è il telefilm? eh quel telefilm che ho fatto? ah ne hai fatto solo uno ne ho fatti tre tre però gli altri per fortuna nessuno ne mai scoperti allora vabbè direi di concludere con delle scene ancora più intriganti no? siccome hai iniziato così bene poi basta questo dura solo un minuto ok? vedo l'ora vai pronti? si via questa però non c'è forse tanto da dire oddio la passione ha finalmente ha avuto un'espressione umana ma che faccia sta c'è questo video si 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 può racchiudere con questo questo è quello che fai in questo da ma guarda è un'altra scena sempre con la faccia guarda che dopo questo video ah sai anche correre no però vedi che ce l'hai un talento attoriale esce di scena oh un sorriso tra l'altro è stato un video fatto da fans tra l'altro vabbè quindi perché lei ti ha lasciato la fine? no vabbè è tutto lungo dovete vedervi tutto il film no va bene così va bene ragazzi grazie per aver visto questo video io devo andarmene no grazie a te per averli visti ti sei divertito ci sei divertito moltissimo divertissimo devo andarmene devo andare all'ambasciata per avermi visto va bene quindi ciao ragazzi ciao a tutti ciao solmafia adesso ho un amico in meno come sempre e noi ci vediamo a un altro video se starete ancora con me se no non ci vedremo mai più se no vi siete ancora disiscritti dopo questo video se no vi siete ancora disiscritti dopo questo video e volete iscrivervi a un canale che invece ha dei contenuti belli e potete andare sul canale acazzo che è l'altro mio canale il terzo canale oppure quello di musica quindi o il mio o anche il suo se proprio 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 vabbè comunque mi ha fatto veramente piacere che solmafia il mio grande 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 amico soprattutto dita è stato qui con me e grazie mille per esserti unito esserti prestato a fare da sacrificio umano da cavia umana prego diciamo che il test è stato superato potete ascoltare tre canzoni di fila di sebastiano senza morire o avere degli attacchi intestinali almeno aspetta che il bagno è proprio lì dietro che mi aspetta e va bene e va beh quindi se volete andarvi a vedere il video ucch e seme chi è l'ucch e il seme andate sul suo se non sapete cosa volete dire ucch e il seme andate a vedervi il video e basta cosa devo dire e basta è bello che ogni frase fai così perchè non da per niente fastidio ci vediamo nel prossimo video bye vi ricordiamo che flower il nuovo singolo di sebastiano serafini è ora disponibile nei maggiori digital store ciao